Musica Buongiorno, benvenuti al centro caravan Bonometti di Altavilla Vicentina. Io sono Andrea Verzacola ed ora vi accompagnerò nel nostro mondo caravan. La nostra concessionaria dispone di 23.000 metri quadrati, tutti al coparto. Venite con me al secondo piano. Eccoci al secondo piano, dove abbiamo sempre un'esposizione di una cinquantina di caravan. Ora vedremo un marchio prestigioso, un marchio tedesco, si chiama Fend, e in particolare la Saphir 560 SKM. Come dicevamo oggi in particolare, guardiamo la Fend Saphir 560 SKM sul telaio alco, con piedini rinforzati e l'asta prolungata. Non c'è bisogno di abbassarsi e quindi sporcarsi i pantaloni per raggiungerla. Pneumatici da carico 195-70 R15C. Maniglie di manovra molto comode in due punti, sia davanti che dietro. Coparche o vanobombole con limitatore di pressione e chiusura in tre punti. Porta con finestra. Zanzariera integrata. Gradino isolato, integrato. E' molto comodo l'accesso. Vedete dentro che ve la faccio vedere. E' una caravan ideale per la famiglia. Abbiamo un letto posteriore, letto a castello sul fianco, e una comoda di netta a U che, volendo, si può abbassare e diventare letto. Abbiamo un ampio piano cucina, vetro termotemprato. Qui tre pentole ci stanno molto molto comode. E' molto semplice anche da pulire. Con rubinetto, salvagoccia, vanno portabottiglie, due prese dal 220 e qui posso vedere il livello delle acque. Tre pensili con i vani, la chiusura è sempre soft close. Frigo grande a colonna da 140 litri, con uno stivaggio molto comodo, dove una signora sicuramente potrà trovare spazio per ogni cosa. La celletta freezer, volendo, si può togliere e creare tutto frigo. Sotto il frigo abbiamo un altro banno di stivaggio. Alla mia destra abbiamo il bagno con maniglie domestiche. All'interno abbiamo la doccia separata, cosa non molto semplice a trovare su una caravan. La finestra in bagno con il suo oscurante e la tanzariera, ampia zona di stivaggio, sia sotto il livello, sia alla sua sinistra. E il WC, molto comodo, si può spostare sia a destra che a sinistra a ruota. Abbiamo due letti a castello, anche questi molto spaziosi, quello sopra alla portata 75 kg, quello sotto, con le sue doghe. Un ampio vano sotto, nella zona sotto il letto a castello. E le doghe sono regolabili. E poi abbiamo un separe nella zona notte. Nel caso i bambini volessero andare a dormire prima, possiamo creare la privacy. Abbiamo una grande dinetta AU con tutta la cuscineria tagliata pezzo per pezzo, in modo da poter raggiungere qualsiasi vano che abbiamo sotto la dinetta. Tutta la cuscineria è tutta sfoderabile e lavabile. Il tavolo con un profilo in legno massello e con una gamba telescopica, che in caso di necessità si può abbassare e creare un letto molto confortevole, anche perché tutti i cuscini sono dritti. La caravan è molto luminosa, grazie anche ai tre oblò panoramici e alle finestre molto ampie, con oscurante e zanzariera a rilascio lento. Anche in questa zona abbiamo numerosi pensili con legno di prestigio e sempre con chiusura soft close. La zona notte è molto comoda, letto trasversale con accesso anteriore, sotto il letto abbiamo un ampio stivaggio, anche qui abbiamo una zona di chiusura, per creare un po' di privacy nella zona notte, e un oblò panoramico, sempre con oscurante e zanzariera, sopra il letto. I pensili di certo non mancano nemmeno qui. E abbiamo già la predisposizione tv nella zona notte. E con questo vi saluto, io sono Andrea Berzacola, vi aspetto presso il nostro concessionario Automarket Bonometti, ad Altavilla Vicentina, per vedere e toccare con mano le qualità della nostra caravan, in particolare, in questo caso, Fender.